Adesso do la parola al deputato Luigi Di Maio, prego. Grazie, Presidente. Oggi è un giorno storico. Segniamola in rosso sul calendario questa data, perché finalmente quest'Aula, che si è immacchiata di tanti voti vergogna, sta per votare una legge che abolisce i vitalizi. Ci è voluta quasi un'intera legislatura, quattro anni e quattro mesi per l'esattezza, di pressioni del Movimento 5 Stelle per giungere al punto in cui siamo oggi. Perché, diciamocelo chiaro, come lo hanno detto colleghi di altri partiti, questa legge è una vittoria del Movimento 5 Stelle. Ed è ancora di più una nostra vittoria, perché non solo abbiamo portato la maggioranza di voi a votare per togliervi il privilegio, ma abbiamo addirittura portato il PD a presentare questa legge. È stata dura trascinarvi fino a qui, ma alla fine avete ceduto. Avete ceduto. Quattro anni e mezzo per questo risultato. Dieci anni di battaglie con migliaia di attivisti. Oggi viene ristabilita la giustizia. Non è la prima volta che vi costringiamo a far saltare delle indecenze. Perché ve ne vergognate? Quando siamo arrivati qui si spendevano 30 milioni di euro in affitti d'oro e li abbiamo fatti saltare. Si spendeva un milione di euro in rimborsi spese viaggio agli ex parlamentari e li abbiamo fatti saltare. Si spendevano 350 mila euro in un'assicurazione dalle punture d'insetto ai parlamentari. L'abbiamo fatta saltare qualche mese fa. Le auto blu costavano 759 mila euro all'anno. Oggi costano 200 mila euro. Ma si può fare di meglio. Si può fare di meglio. Solo fino a qualche mese fa questo sembrava impossibile. In un'Italia ormai assuefatta ai privilegi delle tante, troppe caste che per anni si sono considerate intoccabili. E infatti il clima in cui oggi si discute tra questi banchi e di riflesso sui giornali è surreale. I vitalizi non si toccano. Abolirli è incostituzionale. Ho sentito addirittura evocare parole come macelleria sociale. Signori, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? La macelleria sociale è quella che voi avete imposto al Paese. Taglia oltre 4 miliardi alla sanità. Jobs Act. Questa è la macelleria sociale. Qui noi oggi stiamo facendo una cosa semplice. Semplice e giusta. Stiamo togliendo di mezzo un privilegio medievale. Siamo qui a dirvi che non è intoccabile nessuno di voi. È intoccabile in quest'Aula. Non vi stiamo dicendo rinunciate a una pensione. Vi stiamo dicendo smettetela di considerarvi diversi dagli altri e di pretendere trattamenti di favore. Il vitalizio è un privilegio per chi lo riceve. Ma un'ingiustizia non più sopportabile per tutti coloro che sono fuori da quest'Aula. Per quei cittadini italiani a cui noi dobbiamo rendere conto. Oggi lo Stato spende 215 milioni di euro l'anno per il vitalizio di 2.600 ex parlamentari. Il loro assegno ancora oggi viene calcolato con il sistema retributivo. Quindi un ex parlamentare arriva ad incassare fino a 5 volte quanto versava di contributi. Da oggi con questa legge non sarà più così. Nessuno avrà più diritto a un privilegio del genere. Chi ora percepisce il vitalizio si vedrà un bel taglio perché ora sarà ricalcolato secondo il sistema contributivo. Vi sareste dovuti rendere conto da soli che questa situazione di ingiustizia, di disuguaglianza così smaccata non è mai stata tollerabile. Siamo dovuti arrivare noi per farvelo capire perché noi abbiamo a cuore il paese lì fuori. L'Italia che non ce la fa, le famiglie che soffrano. E se quest'Aula ha il potere di imporre lacrime e sangue ai cittadini, poi ha il dovere morale di imporli anche a se stessa, delle due l'una. L'abolizione dei vitalizi è la nostra battaglia. Lo era prima che entrassimo in Parlamento e lo è ancora oggi. E lo sarà fino a quando non porteremo a casa il risultato dopo il voto in quest'Aula e dopo il voto al Senato della Repubblica. I giornali hanno titolato Sfida PD Movimento 5 Stelle sui vitalizi. Ma quale sfida? Ve l'hanno detto gli altri partiti. Non c'è nessuna sfida. Toglietevelo dalla testa. Tutto è molto chiaro e limpido. Questo dibattito dentro queste Aule parlamentari lo ha portato il Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo imposto nell'agenda e nel dibattito politico. E lo abbiamo fatto mentre tutte le altre forze politiche remavano contro. scandalizzate. Per capirlo basta guardare queste facce, le vostre facce. Non so cosa sareste capaci di fare se ci fosse anche solo una possibilità di allontanare da voi questo calice. Ma questa possibilità non c'è. È scacco matto. Non avete neppure la possibilità di lamentarvi. E dovete pure far finta che vi piaccia, perché lo sappiamo tutti che dentro al PD il vitalizio se lo vogliono tenere stretto. E oggi lo sentiamo il loro fiatone, il loro affanno nel rincorcerci su un tema che non vi appartiene e non è nel vostro DNA. Appena entrato in Parlamento il Movimento 5 Stelle ha chiesto due cose. Abolire i vitalizi degli ex parlamentari, applicando anche a loro il ricalcolo contributivo. E abolire la pensione privilegiata degli attuali parlamentari. Il vitalizio mascherato che manda in pensione gli onorevoli a 65 anni dopo soli 4 anni e 6 mesi in Parlamento. In sostanza vi abbiamo chiesto di prendere la pensione come tutti gli altri italiani. Calcolo contributivo e legge Fornero. Lo abbiamo chiesto in tutti i modi possibili e io voglio ricordarveli tutti qui per capire quale sia il nostro merito di fronte ai cittadini italiani. Settembre 2013. Il Movimento 5 Stelle presenta una mozione per mettere un tetto ai vitalizi e pensione d'oro e ridurre la quota retributiva. Il PD vota no. 2014. Discussione sul bilancio della Camera. Il Movimento 5 Stelle presenta un ordine del giorno che prevede un tetto massimo di 5.000 euro l'ordine ai vitalizi. Il PD vota no. 20 maggio 2015. Il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento alla riforma costituzionale per abolire i vitalizi. Il PD vota no. 9 luglio 2015. Il PD è sotto pressione. Allora Matteo Renzi presenta con Richetti la legge Richetti che ricalcola tutti i vitalizi con il sistema contributivo. La legge giace in un cassetto ma intanto Renzi va in giro a dire che vuole abolire i vitalizi. Agosto 2015. Discussione del bilancio Camera. Il Movimento 5 Stelle presenta un nuovo ordine del giorno che ricalca la legge Richetti e la Presidente Boldrini lo dichiara inammissibile. 2016. Il Movimento 5 Stelle ripresenta i due ordini del giorno, quello del 2015 e quello del 2014, che all'epoca era stato votato e bocciato, ma questa volta vengono dichiarati tutti e due inammissibili. 2 aprile 2017. Il Movimento 5 Stelle presenta in ufficio di presidenza altri due ordini del giorno. Uno che applica la legge Fornero ai parlamentari in carica e l'altro che ricalca la legge Richetti. Il secondo è dichiarato inammissibile. Il primo, il PD, vota di nuovo no. Benissimo. Allora invitiamo il PD a calendarizzare la legge Richetti. Ma il PD ci dice che non c'è tempo e che bisogna presentare un ordine del giorno che intanto ci aveva bocciato per tre anni. Rinunciamo persino al nostro diritto di opposizione, di calendarizzare e discutere una nostra proposta di legge sui vitalizi, la legge Lombardi, e invitiamo il PD a calendarizzare la Richetti. E anche su quello ci dite no. Siete stati messi alla berlina dalla trasmissione Le Iene. A quel punto perdiamo un altro mese dopo Le Iene perché la Commissione Bilancio, cioè il PD, chiede alla ragioneria dello Stato del Governo PD di produrre una relazione tecnica, ma le presidenze di Camera e Senato, in qualche modo, PD, non forniscono i dati e quindi stiamo fermi un altro mese. Capite quanta fatica in quattro anni e mezzo per portarvi fino a qua? E capite quale sia la nostra felicità oggi nel vedervi votare questa proposta di legge. Oggi finalmente facciamo il primo passo per eliminare l'odioso privilegio medievale dei vitalizi d'oro. È una cosa buona, ma non è abbastanza. Potevamo fare un ulteriore passo avanti, potevate eliminare anche la pensione privilegiata che voi, che siete in quest'Aula, prenderete dopo soli quattro anni e sei mesi in Parlamento. Non avete voluto farlo, ma ve lo assicuro, lo faremo noi. Non rimarrà un privilegio che sia qui dentro, è solo questione di tempo, iniziate a prepararvi. Vi abbiamo dato la possibilità di riparare oggi a questa oscenità. Abbiamo proposto un emendamento semplice, la legge Fornero si applica anche ai parlamentari che sono in quest'Aula e voi lo avete bocciato. Li ripresenteremo, questi emendamenti, quando si discuterà il bilancio della Camera, la settimana prossima, perché la legge Fornero va applicata da subito e a tutti i parlamentari. E vi ripeto, lo faremo, che lo vogliate oppure no, perché non solo tutto ciò è inaccettabile, è immorale. Così come oggi siamo qui a tagliare i vitalizi, presto saremo qui a eliminare gli altri privilegi e dimezzare i vostri stipendi. È una promessa che faccio a tutti gli italiani e anche a voi che siete qui. Ci avete anche tolto la possibilità di rinunciare alla pensione privilegiata, bocciando la nostra proposta che inseriva questa possibilità stamattina. Ma ancora una volta il Movimento 5 Stelle si dimostrerà l'unica forza credibile, perché ciò che fa, dice. Ciò che dice, fa. Abbiamo detto che non avremo mai preso i rimborsi elettorali e abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Abbiamo detto che ci saremo tagliati lo stipendio e lo abbiamo fatto andando ad alimentare il fondo per il microcredito alle piccole imprese. Il Movimento 5 Stelle, con tutti i propri portavoci a livello nazionale, ha rinunciato a 80 milioni di euro di stipendi. Solo qui e al Senato 22 milioni di euro. Ognuno dei miei colleghi qui presenti in aula, da quando è entrato in Parlamento, ha restituito centinaia di migliaia di euro. Ognuno ha fatto la sua parte. Ognuno ha dato un contributo diretto al Paese per far nascere nuove imprese e creare nuovi posti di lavoro. Noi i soldi degli italiani non li diamo al partito, ma li restituiamo ai legittimi proprietari che sono gli italiani. Concludo, Presidente. Il Movimento 5 Stelle continuerà a dare il buon esempio dentro e fuori questo Parlamento. In Sicilia, se avremo la fiducia dei siciliani e governeremo, la prima cosa che faremo sarà eliminare i vitalizi dei deputati dell'Assemblea regionale. Possiamo permetterci di dirlo perché i nostri portavoci in Sicilia hanno già rinunciato a questo privilegio. La nostra guerra al privilegio non finisce qui, ma oggi abbiamo vinto una battaglia fondamentale nel modo migliore possibile. Vi terremo il fiato sul collo fino a quando tutto l'iter non sarà completato. In Senato non vi daremo tregua. Quando saremo al governo, noi pensioni e stipendi d'ora li cancelleremo con un tratto di penna. Il resto del tempo e delle nostre energie li impiegheremo per risarcire gli italiani di quello che gli avete insolto. Grazie. Grazie.